E' lì, abbiamo l'ordine di spararmi a pista! E' lì, abbiamo lì! Ora sei mio Ora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono finiti, eh? Dove vi siete cacciati tutti? Già, come immaginavo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Mi farò strada in botto alla volta. Sì, sì. Sì, schizzo. Sì, sì. Forza, figli di Troia! Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ehi, è il culo pesante. Ero venuto per chiederti di andare a pescare, servono provviste. L'hai trovata. Hai trovato la tua signora? Dov'è essere eccezionale. Sì, 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 sì. come la mia, come la tua, come la tua, come la tua, come la tua. mi ha fatto la tua, come 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 la tua. Mike 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 Non è semplice dirlo, ma... Mike è morto. Lui... Lui voleva fermare Schizzo e riportarlo qui. E come ha sempre fatto, lo voleva convincere. Ok. Sì, smettetela! Ora, basta! Non è un erogio funebre! Mike non l'avrebbe voluto! Non perdiamoci in chiacchiere, perché... Perché gli uomini che abbiamo ucciso oggi... Beh, ne rimangono altri! Molti! Molti altri! Io li ho visti! Sono stato al loro campo! E quando torneranno qui, vi faranno a pezzi, senza pietà. O ci proveranno. Se noi non li attacchiamo prima... Ehi! No, no, no! Ehi, silenzio! State zitti! Ascoltatelo! Iron Mike era suo amico, quindi dovete fidarvi di lui! No, 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 hanno ragione, non posso farlo. Io non sono Iron Mike, sono un randaggio. Va bene. Allora vai. No, io... Non voglio scappare, senti. Ok, ti abuso di venire alla baracca. Ok, l'ho trovato in un bunker di survivalisti. Aspetta, eh... Sì, sì, ci servirà un camion grosso, come un autocarro da caltiere. Dobbiamo riempirlo di fertilizzante. Nitrato di ammonio. Già. Combinato con un centinaio di galloni di creosuto. Un camion bomba al fertilizzante. È il tuo piano. Oh, mio Dio. La milizia ha convertito l'isola in una fortezza. Ci sono dei civili nelle grotte, ci sono operai e altri superstiti che il colonnello riteneva inadatti al servizio. E poi l'armeria e il presidio al cancello principale. Attacchiamo lì e potremmo colpire la milizia dritta al cuore. E invece, Sara? Lei è nelle caverne che il colonnello chiama Arca. Ma come fai a sapere che i soldati non uccideranno gli altri e Sara e tutti i civili? Io non lo so, ma so che l'esplosione scatenerà il caos in ogni angolo del campo e spero di entrare e portarla fuori prima che si organizzino. Sentite, non si tratta più solo di Sara. Il colonnello ha dichiarato guerra ai sopravvissuti e ha messo in piedi un vero e proprio esercito. Iron Mike e gli altri hanno già perso la vita a causa di questo conflitto. E noi faremo la stessa fine se non colpiamo per primi. Non ho mai detto che fosse un piano. Infatti è un piano del cazzo, Dick. Sei con me, fratello? Oh, non vedo l'ora. Ok. Ma da soli non abbiamo speranze. Sì, ok, d'accordo. Se ci sono volontari, radunali all'ingresso sud. Così al momento dell'esplosione si concentreranno sul cancello principale. Ok, serviranno delle scorte. Voi siete matti. Voi siete matti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.